buona sera amici telespettatori benvenuti su US Cup TV per la diretta dell'ultimo quarto di finale della Summer Cup che vede affrontarsi il pastore team contro i Gillingham, arbitro dell'incontro stanziano Sandro, c'è un clima perfetto qui al Kennedy Stadium, circa il 50% di umilità e 25 gradi centigradi, stiamo osservando in questo momento lo scambio di stretti di mano tra calciatori ed arbitro, adesso è il momento del Gillingham, prima di procedere per il tocco che si terrà adesso, Capitanini faccia a faccia dunque da inizio il match i ragazzi del pastore team che attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri tre schermi, ci vediamo per inizio di pieno tempo tra pastore team e Gillingham, terzo quarto di finale in ordine cronologico in questo mercoledì sera, 0-0 il parziale come sono trascorsi pochissimi istanti all'inizio del match. Grazie a tutti! 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 Sono dove i primi 25 minuti di gioco, intanto sfortunato qui il pastore team con l'APE colpisce un ottimo incrocio, peccato davvero! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!